E' andato alla PMG Costruzioni la dodicesima edizione del torneo di calcetto Silvio Accarino che ha battuto 2 a 1 la fortissima Druchi Sud Campania sul tappeto sintetico di piazza in dipendenza di Alife con una doppietta del più bravo calciatore del torneo Carlo Natale suggestivo lo scenario della serata con una fantastica cornice di pubblico che ha preso posto già qualche ora prima della finalissima arbitrata dal decisissimo arbitro benimentano Saverio Minicozzi presente anche il sindaco di Alife Cirioli e il procuratore sportivo Giovanni Di Caprio che osservava interessato i migliori calciatori in campo un evento sportivo fra i migliori dell'Alto Casertano messo in pieti quest'anno con gli organizzatori che hanno dovuto fare una vera corsa contro il tempo Rangelo, tracciaci un bilancio del torneo appena trascorso Allora, buonasera a tutti e vi ringrazio per essere venuti qua al memoria al Silvio Mauro Accarino Niente, io dico due parole molto semplici è una manifestazione che ci vuole molto tempo noi la riusciamo a fare in breve tempo possibile siamo contentissimi anche quest'anno di aver svolto una manifestazione che nonostante i tanti problemi siamo riusciti del niente a organizzare questo torneo è una manifestazione che si divide in due fasce quello là dei bambini che è un torneo veramente che noi ci speriamo che insomma ci possiamo contare tantissimo perché ci sono molti ragazzini in cui veramente possono dire ognuno la sua e poi c'è il Memorial Fulvio Giardino che è la decima edizione e poi teniamo il nostro Memorial Accarino nato 12 anni fa con la speranza che insomma duri ancora per tanto tempo Allora Angelo, quali sono state le difficoltà maggiore che avete trovato nell'organizzazione di questo torneo? Niente, come tutti gli anni la cosa principale è insomma il livello economico io proprio su questo punto volevo cogliere l'occasione di fare un ringraziamento a tutti dico tutti gli sponsor di questa manifestazione che non sto qui ad elencare perché sono veramente insomma tanti anche un piccolo contributo per noi è un grande contributo e in più come ogni anno ringraziamo tutte le amministrazioni comunali perché comunque sono 12 anni che noi facciamo questa manifestazione e ogni 4 anni, 3 anni, 2 anni, quello che sia c'è un'amministrazione nuova quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutti con la speranza che ogni anno qualunque esso sia ci dia sempre una mano per esfolgere questa grande manifestazione Alto anche il livello tecnico di calciatori in campo anche perché in tanti sono quelli che giocano in categorie importanti nei vari campionati Ci troviamo adesso con Antonio Ra una giovane promessa del calcio che ha partecipato a questo torneo ad Antonio vogliamo dovantare un poco qual è stata la qualità e il livello tecnico di questo torneo? Questo torneo come anche altri anni è stato un torneo molto bello ci sono iscritte squadre molto competitive anche squadre che giocano a calcetto in categorie molto alte è stato un torneo competitivo e mi fa piacere averci partecipato Ok, quale sarà il futuro allora di Antonio Ra Quest'anno ancora non lo so perché il mio procuratore, l'avvocato Giovanni Di Caprio sta valutando un po' la situazione per inserirmi in qualche squadra e niente Da Alife è tutto Lorenzo Applauso e Giuseppe Di Lorenzo per casertasera.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti